Ciao a tutti sirenette, sirenetti e popolo del mare. Io sono la sirenetta di Ostia e vi do il benvenuto in questa nuova serie di video. Finalmente ho fatto la ricrescita, sono tutta nuova, tutta fresca, sono tornata anche in una location storica dei miei video perché qui ci ho registrato l'ormai iconico video mi dichiaro a Daviduccio con questo sfondo vintage e la lampada di Pierrot e anche se adesso li registro in cameretta perché c'è lo sfondo bianco però ogni tanto mi piace tornare in salotto perché sono un po' nostalgica ecco e oggi registro un video che in realtà avrei dovuto registrare da mesi solo che poi sono subentrati altri video mi sono dedicata alle live mi sono presa una pausa ma adesso è il giorno perfetto perché sto per parlare di Sandro l'interista per caso che saluto e visto che è anche primo novembre oggi che è il compleanno di Sandro ho pensato qual miglior giorno per registrare questo video buon compleanno Sandro dalla sirenetta di Ostia questo è anche un video omaggio per Sandro ma prima voglio rispondere a delle polemiche e a delle accuse che mi sono state rivolte perché dovete sapere che sono stata accusata di essere succube di Sandro di essere sottomessa a Sandro e addirittura Roby per esempio mi ha definita schiava di Sandro ecco io prima di rispondere a questa polemica vorrei dire che l'idea di essere sottomessa a Sandro l'idea di essere schiava di Sandro non mi dispiace affatto anzi diciamo che let's start with this partiamo da questo presupposto che non mi dispiace l'idea di essere sottomessa a Sandro perché comunque io non ho mai fatto mistero della mia cotta per Sandro del mio apprezzamento per Sandro che stimo anche come youtuber ecco quindi appunto voglio omaggiarlo in questo video allora diciamo che questa polemica si è accesa nuovamente nel momento in cui io ho deciso di intervistare Roby il mito di Senna poi sono stata ospite in un hangout di Sandro dove aveva avuto uno screzzo con Luciana e io diciamo sono stata nuovamente accusata di tradimento da Sandro e dalla dalla sua utenza perché avrei invitato Roby però io ho sempre spiegato che l'intervista a Roby è stata una collaborazione lavorativa perché comunque Roby mi ha sostenuta ultimamente sia nei commenti poi c'è stata una donazione non che Roby mi abbia donato in live perché volesse qualcosa in cambio però io ho pensato dal momento che non è che sono un canale così insomma lo vedete è un mio canale piccolino tranquillo ho detto che me la tiro a fare adesso per un'intervista comunque ho ricevuto questa donazione da parte di Roby ho detto io sono abituata comunque ad essere riconoscente alle persone gentili con me che mi difendono nei commenti che sono generose quindi ho pensato un'intervista non mi costa nulla non è che ci devo ci devo andare a cena insieme ci devo banchettare contro Sandro ci mancherebbe anzi io mi sono fin da subito dissociata da alcuni comportamenti di Roby e questo Roby lo sa quindi io ho voluto però dare voce anche a Roby perché comunque tutti lo conoscono qui sullo spicchio tutti ne parlano compreso Sandro e allora perché io dovrei bloccare qualcuno per partito preso come mi fu suggerito da varie persone all'inizio del mio percorso qui su YouTube nello spicchio e io non è che blocco qualcuno che comunque si comporta educatamente come poi se iniziano ad arrivare dei fake se iniziano ad arrivare insulti ad altri youtuber allora lì posso applicare dei filtri ed eventualmente anche dei blocchi però io non blocco Roby quindi questo un po' ha fatto discutere Sandro e la sua utenza perché Sandro comunque è uno scorpione anche lui come me e io un po' posso capire questi comportamenti scorpionici di Sandro che ogni tanto appunto subentra quello spirito vendicativo quello spirito anche possessivo di dire ma se tu sei dalla mia parte allora o tutto o niente o stai completamente dalla parte mia cioè parlo come potrebbe pensare Sandro ecco magari Sandro pensa o Sirenetta sta completamente dalla parte mia o tutto o niente se deve lasciare Roby che commenta ogni tanto Sandro ha questi impulsi scorpionici no del tutto o niente e lo posso anche comprendere sotto questo punto di vista però ricordiamoci sempre che siamo su YouTube cioè non è che ci vediamo nella vita reale c'è c'è un rapporto di amicizia profonda parliamo di YouTube anche di lavoro quindi qui c'è di mezzo anche il business quindi non si può pretendere questo schieramento tutto totale anche se io ho sempre detto e sempre ribadirò che sto dalla parte di Sandro io scelgo Sandro in questa situazione e questo Roby lo sa e Roby però lo ha accettato ha detto che insomma non dice niente se io vado da Sandro anche perché è stato Sandro ad introdurmi nello spicchio io mi sono subito affezionata a Sandro adesso perché le live dove mi sono presentata da Sandro sono private sul suo canale o forse non ci sono più non lo so però comunque io me le ricordo le live anche il pubblico che c'era si ricorda quanto quanto tra me e Sandro c'è stata subito sintonia e quindi io gli sarò sempre riconoscente a Sandro per avermi intervistata subito per avermi introdotta nello spicchio per avermi sempre promossa ha sempre promosso il mio canale quindi questo Roby penso lo abbia capito e comunque è una cosa che bisogna capire tutti devono capire che io comunque ho una preferenza per Sandro e non ne faccio mistero lo dico sempre ecco quindi tornando sul discorso Sandro è molto così o tutto o niente però bisogna capire appunto che qui c'è un discorso di business e quindi io però ho fatto sempre le dovute premesse quando ho intervistato Roby ho sempre detto io mi dissoso da tutto quello che ha fatto contro Sandro e tuttora io non ci voglio entrare in questo dissing tra Roby e Sandro perché insomma è una cosa che non mi riguarda io ne ho parlato quando ho intervistato Roby ma per me finisce lì cioè io posso farci una, due live poi stop perché non è un ambito di mia competenza poi insomma non mi intrometto più di tanto posso fare delle domande, posso approfondire per fare chiarezza però poi quando vedo che la situazione non può arrivare a una soluzione allora alzo le mani al cielo e faccio un passo indietro anche perché poi cosa è successo? è successo che da Sandro io ho detto che Roby ha dei limiti e Roby si è offeso di questo perché appunto io intendo però quando ho detto Roby ha dei limiti sono limiti nel senso che il limite di comprendere che c'è un'esagerazione nei suoi comportamenti quindi per me ha un limite nel comprendere che spesso esagera dal mio punto di vista e io questo l'ho detto però detto ciò io non è che posso mettermi in mezzo su dissing quindi visto che da Sandro può capitare che poi si parla di questo dissing io ho deciso che me ne tiro fuori se Sandro si mette a parlare di Roby con di Amanda e con altri ospiti io faccio un passo indietro semplicemente perché non mi interessa far parte di quel dissing ecco quello che volevo dire poi ma come sono carina con questa luce wow si venete, si venete, è povero del mare quello che volevo dire è però anche a Sandro che tu giustamente puoi aspettarti che le persone per cui tu provi una stima prendano le distanze da Roby però tu Sandro sei anche il primo che spesso ne parla di Roby del tuo nemico uno dei tuoi nemici nelle live e quindi io penso o se non ne vuoi più sapere nulla di Roby o non ne parli tu per primo e fai come faccio io con le persone che ho deciso di escludere totalmente dal mio canale non ne parlo più proprio zero nemmeno allusioni però se tu Sandro anche spesso ne parli di lui ti metti a fare salotto con di Amanda e con gli altri ospiti è normale che anche involontariamente protrai questo dissing perché poi Roby ti risponderà tu risponderai sarà un continuo botta risposta e quindi io mi chiedo se tu sei il primo a parlarne nelle tue live perché non posso farlo io invitando Roby per parlare questo ho pensato poi comunque Roby lo conoscono tutti sullo spicchio e quando Roby dice in modo esagerato perché mi pare esagerata come cosa però dice che è il più potente sullo spicchio devo dire però non ha tutti i torti perché effettivamente tutti lo conoscono e il nome di Roby smuove le montagne qui sullo spicchio tanti dissing partono proprio da situazioni che riguardano Roby e questo è innegabile quindi quando Roby dice che da una parte lui è il più famoso e il più potente dello spicchio è un po' a ragione perché di fatto smuove le dinamiche il suo nome se non fosse rilevante nessuno ne parlerebbe nessuno lo conoscerebbe e invece io quando sono approdata nello spicchio in tanti mi hanno parlato di lui mi hanno detto mi hanno detto ah c'è quello fai attenzione è qua e là quindi insomma è un nome comunque che non si può così ignorare cioè esiste c'è sullo spicchio e anche la sua rilevanza nello spicchio quindi ho pensato di intervistarlo pur dissociandomi completamente dai suoi comportamenti e questo Roby lo sa punto quindi tra me e Roby c'è semplicemente un rapporto di civiltà un rapporto di rispetto punto non c'è alcuna alleanza non c'è alcuna amicizia e come non ho amicizie con nessuno di youtube nessuno che io conosca sui social non ho amicizie posso avere amicizie youtubiche ecco però con Roby non ho nemmeno un'amicizia youtubica questo bisogna dirlo a onor di cronaca mentre con Sandro non dico che ho un'amicizia però c'è già un affezionamento da parte mia al personaggio di Sandro alle live di Sandro ecco io poi non sono d'accordo ad esempio con il discorso che ha fatto Donovan nella sua intervista perché io recentemente ho intervistato anche Donovan The Journalist che nella mia intervista si è dimostrato schierato nettamente dalla parte di Roby ha detto più volte viva Roby e ha attaccato ripetutamente Sandro allora io non sono d'accordo mi piace anche Donovan questo bisogna dirlo apprezzo anche Donovan però su alcune cose non andiamo d'accordo però questo è normale ognuno ha le sue diversità ecco diversità di pensiero ci sta e quindi non mi sono piaciuti gli attacchi di Donovan nei confronti di Sandro perché a me le live di Sandro piacciono anche i video che fa mi piacciono gli youtuber caserecci i video caserecci senza pretese senza costruzioni e invece magari seguo molto meno i canali più costruiti più mainstream io sono proprio per i canali casalinghi caserecci quindi su questo Donovan non mi trovo d'accordo e poi devo dire che pur apprezzando io Donovan apprezzo Donovan mi è simpatico mi piace ha tante qualità però ecco se mi chiedete chi preferisci Sandro o Donovan eh io io devo dire Sandro io preferisco Sandro Donovan non me ne volere anche tu però Donovan mi hai scherzosamente bocciata nelle pagelle hai detto che preferisci le more anche se io sono una bionda ossigenata però sono più bionda di tante bionde naturali perché il biondo è anche uno stato d'animo ecco io sono biondissima inside e outside quindi Donovan visto che mi hai bocciata scherzosamente alle pagelle io me la leggo un po' al dito e adesso ti dico eh io preferisco Sandro a te anche perché bisogna fare se devo fare una classifica perché io faccio molto le classifiche io vivo facendo classifiche sul mio canale è anche pieno di playlist dove faccio classifiche le classifiche delle mie canzoni preferite di tutti i tempi classifica delle canzoni di Avril Lavigne di Taylor Swift di Povia eh sono fatta così ah se devo fare una classifica al primo posto al primo posto ci metto lo zio Mimmo però se consideriamo in generale anche personaggi più famosi al primo posto di Bonazzi ci metto Alec Baldwin anche se poi come personalità non mi piace politicamente non mi piace però se parliamo di ehm 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 bonaggine primo posto Alec Baldwin secondo posto ehm Paul Newman ecco poi al terzo posto ci metterei è lo zio Mimmo perché lo zio Mimmo ehm di Youtube dello spicchio eh oltre al suo fascino ha anche la costanza la sensibilità e la fedeltà nei miei confronti proprio ehm la costanza la presenza la gentilezza il savoir il l'essere gentleman ecco poi al quarto posto ci metto Povia e subito dopo Sandro quindi Sandro comunque è in top five quindi diciamo che di Youtube subito dopo lo zio Mimmo c'è Sandro quindi Donovan non me ne volere ma classifica allora quindi questo per farvi capire che io sono sono affezionata a Sandro lo supporto anche se abbiamo avuto degli screzzi io e Sandro ma è stato un dissing sempre scherzoso lo ribadisco ho anche cancellato i video perché non era era tanto per anzi gli ho dato l'onore a Sandro di avere un dissing con me e io tutto sommato voglio quindi far capire a Sandro che sono dalla sua parte anche se posso fare collaborazioni con persone che lo criticano che gli vanno contro io però appunto questo è un video omaggio per Sandro e poi che altro aggiungere che altro aggiungere potrei aggiungere qualcosa forse perché mi ero prefissata una scaletta sono già 20 minuti di video e vabbè penso che però possa piacere questo video e possa scorrere velocemente ah ecco volevo dire a Sandro un'altra una precisazione Sandro va bene che tu ti offendi perché ho chiamato rovia però pure tu Sandro sei il primo che pensava di chiamare di invitare in hangout le mie nemiche di youtube quelle che mi andavano contro pesantemente quello che nella chat lascia delle utenti che mi vanno contro e su questo abbiamo bisticciato spesso Sandro quindi tu pretendi tanta fedeltà nei tuoi confronti però tu non sei poi altrettanto fedele dello schierarti a 360 gradi con chi poi con le persone dalle quali poi tu pretendi una fedeltà a 360 gradi quindi tu vuoi invitare le nemiche della sirenetta su in hangout nella chat e allora poi non non fare polemica se se faccio l'intervista a Roby o a Donovan però alla base rimane rimane una stima per lo youtuber Sandro e sono contenta di di aver aiutato il la ria pacificazione tra Sandro e Luciana sono contenta e che dire che dire ho detto tutto ho detto tutto perché sapete avevo tante cose in mente da dire su su questo video credo credo che la scaletta che mi ero prefissata l'ho detta tutta sì tanto vabbè l'ho sentito in velocità due per in velocità per due e mi scorre di più ecco posso aggiungere che Sandro ecco Sandro mi piace anche perché tutto sommato anche se gli può dar fastidio che invito persone che gli vanno contro però Sandro non se la prende mai quando comunque ci si scherza è quando io ci scherzo è è una persona alla mano comunque è una persona che che non mi devo preoccupare se se appunto viene nominato e allora mi preoccupo oddio meglio non nominarlo no Sandro è molto alla mano è molto si presta alle dinamiche di youtube si presta al gioco di youtube credo perché anche lui fondamentalmente capisca che youtube è uno svago un passatempo non significa poi nulla nella vita reale e quindi va preso per quel che è youtube ecco quindi apprezzo molto questo di Sandro che Sandro per esempio è stato attaccato più volte da Donovan nell'intervista e non ha detto niente cioè Sandro puoi dire Sandro l'interista Sandro l'interista Sandro l'interista e non rompe le palle fondamentalmente quindi questa è un'altra qualità di Sandro ecco che volevo precisare perché insomma non è scontato che che si lascia scivolare ma secondo me si lascia scivolare le cose perché appunto capisce che youtube va preso come passatempo come cazzeggio ecco questo è lo spirito giusto per stare su youtube in particolare nello spicchio ecco quindi di Sandro mi piace anche questa cosa che posso essere più sciolta posso essere me stessa diciamo posso cazzeggiare posso stare più me ne freghista non ho magari il pensiero di essere un po' più rigida perché magari se dico una cosa si può offendere se ne dico un'altra invece molto scialla ecco quindi è anche per questo che stimo Sandro come youtuber quindi io spero di aver chiarito la mia posizione su Sandro su sulle accuse che ho ricevuto sulle polemiche spero di aver chiarito tutto saluto quindi Sandro Linterista e buon compleanno Sandro e ci vediamo al prossimo video